È da tanto tempo che non mi presento qui, non sono nemmeno sicura di sapere chi sono questi 26 iscritti e se si ricordano pure di essere iscritti. Comunque, ciao, che bello rivedervi e vedere che siete ancora da queste parti, forse. Comunque, vi sarete probabilmente accorti del cambio di stile, avrete visto i miei ultimi video, lavori e forse avrete visto che ho privatizzato la maggior parte dei miei vecchi video. Questo perché voglio ricominciare questo canale da capo, più o meno. Voglio tenere i miei lavori più recenti così che posso tenere questo canale come una specie di portfoglio di animazione, con un po' di me in mezzo. Attualmente sto lavorando su alcuni, beh, un progetto originale che avevo in mente, l'animazione Cat Groove, che è rimasto in stallo per secoli. Questo perché ho dedicato il tempo ad altre cose. Come probabilmente avrete visto dai video più recenti, ho allenato le mie abilità di animazione, quindi credo di riuscire, quando avrò finito questa scuola, di avere più tempo per fare qualcosa di più sostanziale, in uno stile differente, molto meglio. Ma a parte quello, sto anche lavorando ad altri progetti, altre animazioni, altri video che voglio fare, ma non dico nulla. Niente data e niente anteprime, niente di niente, perché non voglio pubblicare niente che non sia sicuro di riuscire a finire. Non so se sarò capace di farle, quindi è inutile stuzzicare con roba che non accadrà mai. Allora, questo è il primo video per far riprendere il nuovo canale, il nuovo me, il nuovo qualunque cosa sia. E dopo questo video, presto, su questo canale, sarà il primo video del mio vlog sul mio stage di tre mesi a La Chaude Font, di cui sentirete più in dettaglio nel vlog. Quindi sì, se vi va di stare qui, iscrivetevi, mettete la campanellina, vabbè, il mio piano non è diventare una star youtuber, questo è solo per divertimento. Se qualcuno è qui per guardare, bene, probabilmente mi vedrete più attiva sui miei social, che sono in descrizione, che non sono tanti, sono principalmente incentrate sui miei disegni, quindi sentitevi libri di dare un'occhiata se vi va e grazie per essere rimasti fino alla fine.